Seam, la società gestrice dell'aeroporto civile di Grosseto, chiude il bilancio 2022 con risultati lusinghieri e per certi versi inaspettati. Oltre a 1.300.000 euro di ricavi e 1.500.000 di valore della produzione, utile di esercizio più che raddoppiato. Il Consiglio di Amministrazione ha poi ricevuto Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera dei Deputati, che ha visitato lo scalo civile insieme ai parlamentari Simona Petrucci e Fabrizio Rossi. I risultati dell'attività 2022 hanno superato ampiamente le più rose aspettative, sono risultati significativi, basta considerare che i ricavi relativi alla gestione caratteristica sono cresciuti del 50%, i valori della produzione hanno superato il milione e mezzo, i costi sono stati contenuti in un incremento limitato al solo 20%. L'utile conseguito da una società a valle del pagamento delle tasse è di 363.000 euro a fronte dei 122.000 dell'anno precedente. Quindi risultati lusinghieri che il Consiglio di Amministrazione ha approvato con soddisfazione, tenendo conto che si è poi superato il milione di euro di ricavi che consentono il mantenimento della partecipazione pubblica e si sono saturati i 2.000 movimenti autorizzati dall'aeronautica militare e che si sono raggiunti e superati i livelli di traffico precedenti alla fase del Covid. A testimonianza di un dinamismo e di una resilienza dello scalo di Grosseto che fa ben sperare per il futuro.